non esiste il caso 2 al video precedente abbiamo visto cosa comporta il fatto che il caso esista o meno in questo video cerchiamo di comprendere perché il caso invece non esiste ora anche in parte la psicologia stessa e anche altre scienze come l'epigenetica o la fisica quantistica sono arrivate a comprendere che probabilmente un caso non esiste partiamo da sigmund freud che definisce il principio di coazione a ripetere sostanzialmente è una parte del karma comunque una tendenza ovviamente inconscia dell'essere umano a porsi in situazioni penose o dolorose senza ovviamente rendersi conto in quanto è inconscia allora né di averle attivate né del fatto che si tratta di ripetizione di vecchie esperienze in pratica assumiamo dei modelli degli schemi ed infanzia ovviamente secondo freud e questi semplicemente dato che li abbiamo presi a modello quindi il nostro programma base non facciamo altro che riapplicarlo quindi molto semplicemente sono le nostre scelte inconsce che vanno a definire parte delle nostre esperienze certo questo può spiegare una parte del fatto che magari troviamo sempre quel tipo di relazione ma altre cose ovviamente fattori che sembrano completamente slegati dalla nostra interazione e che comunque ci capitano ecco che arriva jung invece car gustav jung che ovviamente si è addentrato un po nei meandri dell'esoterismo cosa di cui era appassionato tra l'altro consiglio libro psicologia dei fenomeni occulti anche e ha definito quindi definì il principio di sincronicità la sincronicità ovviamente è una parola su cui probabilmente bisognerebbe fare un corso di una giornata per comprendere effettivamente che cos'è inizialmente la definì come interazione tra soggetto e ambiente riferendosi per esempio a quei momenti dove pensi a una persona e poi dopo qualche minuto la incontri pensi una canzone e dopo un po' la senti suonare per radio questo per quanto riguarda l'esoterismo si chiama fenomeni telepatici o casi di telepatia dato che fondamentalmente un po telepatici lo siamo tutti epigenetica questo non ha anche spiegato e non solo ma andando in realtà più in profondità la definizione che l'essere umano è in realtà sincronizzato con l'ambiente e con ciò che gli accade e questo perché ovviamente car gustav jung a un qualche livello ha compreso anche lui e ha studiato la metafisica universale le leggi della metafisica universale quindi principi che fondamentalmente maestri come il metetrisme gisto il buddha o il cristo hanno semplicemente enunciato nei loro insegnamenti o nelle loro parabole quindi sono informazioni sostanzialmente che l'essere umano principi che l'essere umano conosce da millenni e che il nostro gergo sostanzialmente più moderno potremmo dire che il nostro campo quantico personale programmato da miliardi di informazioni e provenienti dai più svariati luoghi quindi non soltanto dalle esperienze infantili traumatiche o meno che siano poi abbiamo la coazione ripetere non solo nel trauma abbiamo la coazione ripetere in tutto noi siamo abitudinari come esseri umani e anche se una cosa è nociva per noi la ripetiamo uguale perché il cervello con pc ripete a schema fisso potremmo anche dire che il nostro cervello per certi aspetti è anche un po tonto ecco quindi diciamo in gergo moderno appunto noi siamo un campo quantico di informazione connesso con tutti gli altri campi quantici di informazione quindi noi siamo interconnessi in una in una tele universale quindi sostanzialmente tutte quelle che sono le nostre programmazioni interne che ripeto possono venire da altre incarnazioni possono venire dal nonno dalla genealogia dall'inconscio collettivo possono venire dall'esperienza infantile non è importante da quale bacino informazionale di cui parleremo ovviamente dei vari bacini informazionali non è importante da quale bacino vengano le nostre programmazioni ma comprendere che le tutte le nostre programmazioni vanno ad attrarre un tipo di realtà esterna anche il buddha chiarì molto bene questa cosa ora ovviamente tutto quello che ci capita non è altro che lo specchio di qualcosa che noi abbiamo registrato all'interno ora possiamo utilizzare sempre il metodo scientifico che dice sono tutte cazzate e quindi rifiuta la possibilità di poter guardare più in profondità e di eventualmente riuscire a risolvere queste cose possiamo oppure opzione 2 incazzarci con chi ci ha programmato quella roba dentro genitore il mondo la sua civiltà per prendercela con tutti quanti anche questo non ti aiuterà ovviamente a risolvere le situazioni problematiche della tua vita oppure 3 possiamo fermarci terminare per un attimo di lamentarci di accusare il mondo esterno di sentirci in colpa perché non c'è bisogno anzi senso di colpa ti frena dal processo di comprensione e guarigione e semplicemente scrivere quello che ti capita lo scrivi e lo guardi e comprende che quello è solo un programma come poterlo lavorare ovviamente andremo avanti nei prossimi video ma comprendi che quello è solo un programma scritto a un qualche livello nelle tue informazioni niente più che una programmazione che si può andare a riprogrammare questa è la cosa importante grazie a tutti